Io sono andato a fare ricerca in altri ambiti. Poi nel 2013 la CIL mi dice, mi chiama Gino Paoli, che era il presidente della CIL, siccome l'avevo conosciuto nel 1993 nel carcere di Poggio Reale, perché lui era un deputato della Repubblica, si chiamava, era un deputato del PC e si occupava di questioni carcerali, che è sempre stato vicino a questo tipo di mondo e io lo colombi lì e mi chiese di pensare a un progetto per il carcere. Io al Poggio Reale avevo portato l'esperienza di San Vittorio e lui mi chiese di fare qualcosa. Io mi presi due mesi di tempo e poi le carceri del 1990 non sono le carceri del 2013 o del 2016, un tempo c'erano solo gli italiani, adesso le carceri sono piene del mondo, c'è qualsiasi tipo di etnia all'interno delle strutture carcerali. E poi oltretutto cosa è successo? Tanti, magari molti o alcuni di voi non sanno qual è davvero il problema, nel senso che oggi nelle carceri c'è tanto volontariato, si fanno tante cose, si fanno tante cose anche di musica. Io ho iniziato quando non c'era niente, perché c'erano delle leggi che non lo permettevano, ma adesso c'è teatro, c'è qualsiasi cosa. Allora, pensandoci ho detto che cosa può essere utile oggi nelle strutture carcerarie. Certamente la musica, ma la musica spesso la panno già, ci sono anche i cori. Io ho iniziato attraverso l'esperienza corale, attraverso l'esperienza. E allora diciamo che ho messo a frutto questi trent'anni che abbiamo appena letto e ho immaginato di creare in ciascun carcere, visto che ci sono le biblioteche, ma non ci sono le audioteche, ho immaginato di creare delle audioteche, ma che non avessero canzoni, baglioni, Renato Zero, tutti stimati amici, musicisti e artisti che raccontano la vita di tutti i giorni, ma volevo che i detenuti vivessero pieno il potere della musica, senza la parola. E quindi che cosa ho fatto? Ho immaginato queste audioteche di riempire di musica di tutti i continenti, di tutti gli stili, di tutte le nazionalità e di tutti i generi. Quindi musica classica, musica pop, anche elettronica, musica etnica, musica da film, la classica di tutti i tipi, di tutti i generi. e poi ho chiesto a tanti amici musicisti, Tifreso, Bollani, tanta gente, di donare il loro amore per tutta una serie di brani che a loro facevano piacere. Però, certo però, cosa gli ho detto anche? Io gli ho fornito una griglia di 27 diversi stati d'animo, riassunti in nove grandi famiglie principali. E gli ho detto a ciascuno, adesso voi in questo brano però vi prendete la responsabilità di metterlo in uno di questi diversi stati d'animo che vi ho offerto come opportunità per riflettere sui vostri sentimenti. Loro lo hanno fatto, l'audioteca è un'audioteca che oggi è in quattro carceri in tutta Italia, alla fine del mese di dicembre sarà in dodici carceri in Italia, tra cui Venezia tra l'altro, quindi di vicino, ed è un'audioteca divisa per stati d'animo prevalenti. In maniera che i mettenuti, prima di andare ad ascoltare qualsiasi tipo di musica, si chiedono come voglio sentirmi, come mi sento e da lì parte la ricerca che ti porta ad una musica. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!